Buonasera a tutti e benvenuti a questi aperitivi con gli autori. Abbiamo un ospite speciale, uno dei protagonisti della sezione Europe Now, che è dedicata alla sezione di BFM dedicata al cinema europeo contemporaneo, che è Stéphane Brisé. Stéphane Brisé è un regista della carriera ventennale, esordito alla Keyzende Remisateur quasi vent'anni fa e molto conosciuto, molto noto anche in Italia per gli ultimi due film in particolare, La Legge del Mercato e Una Vita. Lascio subito la parola al mio collega Lorenzo Rossi, accanto con noi a condurre questo incontro c'è Giulio Sangiorgio, che è direttore di FilmTV e che ci aiuterà in questo incontro. Grazie mille. Grazie Caterina. Dobbiamo andare un po' rapidi, quindi cerco di stringere e di chiedere tutto quello che riesco a Stefano. Naturalmente se volete fare qualche domanda è apposta per rispondere. Volevo partire dall'inizio, diciamo, o comunque dai primi film tuoi, che mi sembra, non so se sei d'accordo, abbiano un minimo denominatore in qualche modo. Sono tutti film che sono ambientati nella provincia francese, ovviamente. Il primo film che si intitola appunto Le Bleu de Ville, voglio dirlo bene, sottintende appunto con la parola blu questo essere malinconico. Sapete che blu in inglese ma anche in francese ricorda la malinconia. E tutti questi luoghi hanno qualcosa di sottimente malinconico. E i personaggi, perché poi il cinema di Stefano è un cinema molto di personaggi e anche di attori, come poi magari riusciamo ad approfondire, sono intrappolati in questi luoghi e sognano spesso, come nel film che ho citato, ma anche in altri, di andare in un altrove, a Parigi per esempio, o nella metropoli. E quindi volevo chiedervi innanzitutto un rapporto fra i personaggi e i luoghi e del perché è così importante questo immaginario legato alla provincia. e dall'altra se parte da qui, magari, per pensare e scrivere i suoi film. D'abord, merci d'être ici, allora che dovevi avere la projeczione di un film molto interessante a côté. Beh, grazie di essere qua, anche se c'è un film molto interessante qua vicino, grazie di aver scelto me. E certamente un realizzatore ha sempre delle cose più interessanti a dire con questi film che con la parola. Anche perché spesso i registi hanno delle cose più interessanti a dire con i film che con le parole. Ma proverò a non farla troppo lunga e ad essere comunque interessante. Allora le domande che ha fatto Lorenzo, in un certo senso, mi sembra che lui le faccia qualcun altro perché, in effetti, i film di cui ha parlato, come ha detto anche lui, l'ho fatto il parecchio tempo fa. E a cette chose assez troublante, c'è che, in effetti, il y a certà, beaucoup de films que vous allez découvrir, che vont devenir de l'instant présent pour vous, alors qu'ils appartiennent à un passé qui devient très lointain pour moi. E che j'ai dépensé beaucoup d'argent chez le psychanalyste pour, justement, m'éloigner de tout ça. E ho passato, ho speso un sacco di soldi dallo psychanalista per allontanarmi proprio da quei film. Mais, bon, effettivamente, je me sens toujours, encore aujourd'hui, alors que j'habite depuis 30 ans a Paris, toujours un immigré, toujours un petit provincial qui a la capitale. Però, comunque, è vero che, anche se abito ormai da 30 anni a Parigi, mi sento ancora provinciale, ancora un immigrato della grande città. Vous voyez, le temps che fa aujourd'hui a Bergamo, moi, je l'ai connu a peu près tous les jours dell'année, là où j'ai grandi, en Bretagne. Et le temps que j'ai fait aujourd'hui à Bergamo, que j'ai fait aujourd'hui à Bergamo, c'est le temps que j'ai connu pratiquement pour tout le temps que j'étais en Bretagne, tous les jours. Donc, automatiquement, ça crée des personnalités plutôt mélancoliques. Et donc, clairement, si créent des personnalités assez mélancoliques. Et comme je ne sais faire qu'avec ce que je suis, ce que j'ai été, ce que je suis aujourd'hui, ce que je serais, attention, effectivement, mes films, les premiers notamment, étaient baignés de cette terre provinciale très mélancolique, avec des personnages, souvent, qui rêvait, consciemment ou inconsciemment, de partir. J'ai tellement détesté les dimanches de province où la ville s'arrête, où les magasins sont fermés, vous devez peut-être ça aussi ici, que ça a évidemment imprégné une partie de mes films. Et ces personnages ont existé, et il y a une forme de, oui, de mélancolie, qui traversent, en fait, effectivement, tous les films. Un peu moins maintenant, il y a plus des films de colère aujourd'hui, mais la mécanolie m'a habité longtemps. Et donc, je suis un peu plus de personnages habitants, et maintenant, pour moi, sont plus des personnages habitants, plus de la colère, mais la mécanolie m'a accompagné beaucoup. J'ai un peu plus de personnages habitants. J'ai un peu plus de personnages habitants, J'ai un peu plus de personnages habitants ? J'ai un peu plus tué à l''. A temps qui arrivait à l'environnement, de Cahiers du Cinéma, qui parlava du vote politique du cinéma français. Je ne suis certaine pour ça les personnages habitants, mais il film se trouve qu'il est intéressant, è davvero frontalmente politico e volevo capire per te che cosa significa e se è ancora possibile un cinema politico. Allora, prima cosa chiediamo che i cahiers del cinema non hanno mai scritto una parola positiva nei miei confronti. Quali se fosse il giornalista che scrive su di me, io comunque faccio soltanto dei film stifosi. Però, per fortuna, c'è un'altra critica che ha sempre trovato effettivamente i miei film interessanti. Ah, sì, i film che c'è, le ha sempre trovato interessanti. E sì, credo che i cahiers del cinema sia una legenda che per me è un pochettino controverso. Allora, io ho, diciamo, coscientemente sto di aver cominciato a fare dei film politici a partire dalla legge del mercato, anche se forse incoscientemente ho cominciato prima. Il y aveva un espace d'observazione che era un espace dell'intime della famiglia e, e, fino a qualche ore di printempo, che era il cinquième film, io tornaio all'interno di questo espace. e, fino al mio quinto film, che era... 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 e, fino a quel film, io giravo all'interno della famiglia, quindi il mio... mio film si divergeva nello spazio dell'ambito familiare. e... il y a un momento, che, dopo aver fatto un film, una figlia e sua madre, un figlio e suo padre, un figlio e sua madre, un figlio e sua madre, j'arrivais al punto delle possibilità. E allora, a un certo punto, dopo aver fatto un film sul rapporto fra una madre e una figlia, il rapporto fra un figlio e la madre, il figlio e il padre, a un certo punto ho finito il giro della famiglia, quindi non ho più avuto possibilità. E, in sperando che le cagli del cinema mi trobano soudainmente molto interessante, ho deciso di aprire il mio ambito di analisi. E, nella speranza che le cagliere del cinema, da un momento all'altro, mi trobassero finalmente interessante, ho deciso di aprire il mio ambito di analisi. Non, sinceramente, in realtà c'è qualcosa che si è... ...che qualcosa che si è... ...heureusement... ...apesato all'interno di mio piccolo, e che mi ha permesso di confrontare, c'è qualcosa che ho cercato a fare depuis molto tempo, e, in realtà, il fatto è che, probabilmente, sono riuscito a fare pace dentro di me, con qualcosa che volevo esprimere da molto tempo, cioè, il rapporto di un individuo con il mondo che lo circonda. ... ... E, fino adesso, diciamo, il primo passaggio è stato di fare il film con dei personaggi, in un certo senso, silenziosi, perché, sia nella loi de Marché che anche in V, ci sono dei personaggi in un certo senso silenziosi, che parlano poco, e si espongono poco. Con il film che ho finito di fare adesso, per esempio, sono passato a un livello successivo, cioè, finalmente, ho un personaggio che prende la parola e la prende lentamente. ... E, quindi, la definizione di politica è la vita della città, ho avuto il sentimento, consciente, di fare dei film di politica, a partire dalla loi di Marché, perché, la vita della città, e la forma in cui la vita della città poteva agire su un personaggio, è stata osservata. e, siccome, andando al significato originale della parola politica, la politica è la vita della città, la vita del paese, e, io ho, diciamo, la coscienza di aver fatto, effettivamente, dei film politici dalla loi di Marché in poi, perché, finalmente, perché il personaggio, finalmente, si confronta con la città, la vita della città, e l'effetto che questa ha su di noi. E, voglio dire, molto, molto honnettamente, io non potrei più, là, oggi, essere giusto all'endroito della famiglia. Mi sembra che, per me, ho una forma di responsabilità, in quanto realizzatore, di posare la mia camera e il mio guardo a questo endroit, e di guardare il mondo, molto frontale. E, sinceramente, oggi, non mi sentirei più a mio agio a mettere la mia telecamera in mezzo alla famiglia e a fermarmi a quell'ambiente. perché sento la responsabilità, come cineasta, di mettere la telecamera in una posizione e, con quella, guardare il mondo frontalmente. E, in effetti, non in quanto realizzatore, ma in quanto realizzatore, è in quanto là d'où io vien, socialmente, io vieno di un milio molto modesto, io vieno di un milio dove le persone hanno integri l'idea di se taire face aux puissanti, face a la marge del mondo che l'on leur impose. e c'è qualcosa che mi ha sempre, in fondo, miso in colore e che è importante, per me, a un momento, di esprimere questa colore e di mettere in mots, in immagini, in forme, come questo sentimento profondo d'humiliazione che abita una enorme parte della popolazione. che ho sentito, sento, di doverla esprimere in un certo modo. Questo, in realtà, è molto interessante perché chi non ha ancora visto i suoi film ha una chiave di lettura molto giusta, per approcciarsi, ovviamente, perché viene da lui, ma in generale anche per come li potrete interpretare voi. Ma su questa cosa che diceva alla fine, che può essere uno sguardo suo politico, che è quello che ha spiegato, ma mi sembra che la politica venga fuori, soprattutto, dal rapporto in cui lui illustra il lavoro. Il lavoro è una delle parole chiave, secondo me, del suo cinema, perché La loi du Marché è un film che parla di lavoro, lo fa in maniera esplicita, ma in tutti anche i suoi film precedenti c'è sempre questo a questo argomento, del lavoro che viene fuori in tanti modi diversi, come sfruttamento, come ricerca di affermarsi, e soprattutto, credo, che la parola che mi viene in mente più di tutte è proprio quella di dignità, e lì sta, credo, il messaggio politico. Volevo capire se è d'accordo su questo e come interpreta e quale valore dà alla rappresentazione del lavoro che ha il cinema. Non è mai semplice da rappresentare il rapporto tra i personaggi e il lavoro che fanno e soprattutto l'ambiente di lavoro in cui i personaggi sono immessi, mentre nei suoi film con pochissimi tocchi e sempre appunto con questa macchina così silenziosa ce lo racconto in modo davvero straordinario. Allora, quando mi pose la questione mi rendo conto che ho messo il t-shirt all'inverse mattino. Bene, attraverso la domanda mi sono rendo conto che mi sono messa la maglia al contrario stamattina. Evidemment, io mi sento molto ridicolo e mi dico che vuoi andare a fare questo, no? Evidentemente, non mi sentivo ridicolo perché l'ho visto solo adesso. Ma la questione sul lavoro è importante e, infatti, io ho sentito che il cinema francese è un cinema abbastanza bourgeois e che ha in questi ultimi anni può mettere la rappresentazione del lavoro al cuore dell'immagine. Allora, io penso che il cinema francese sia in un certo senso un cinema un po' troppo borghese che, in effetti, soprattutto negli ultimi anni ha preso come tema il lavoro un po' troppo poco. e ho sempre di posizioni di posizioni che si sono posizioni fondamentalmente riguardo a quel certo tipo di lavoro. e quindi passiamo a vedere come questo lavoro per che la rappresentazione sia giusta. è E negli ultimi anni è interessante vedere come il lavoro si è diventato una sorta di strumento di oppressione nei confronti degli individui. La denrè di lavoro si è rarifichata, il che ha la possibilità di dare un lavoro a qualcuno ha in mano un potere assolutamente eccessivo per il solo fatto di poter dare un lavoro. E questo si vede molto nella legge del mercato dove il personaggio che ha cercato lavoro per mesi e mesi a un certo punto si trova a trovare un lavoro. dove però è costretto a fare qualcosa che è reprensibile, che è corretta eticamente. E quindi è come se voi faceste vedere una bottiglia d'acqua a qualcuno che ha sedere e gli diceste bene allora vuoi bere ecco ti ho la bottiglia però devi fare quello che voglio io. E le forze in presenza, qu'elle soit al momento in cui si può proposare un lavoro, al momento in cui si può fare un lavoro, al momento in cui si può fare un lavoro, le forze in presenza sono extremamente disproporzionate. Allora, c'è evidente, di fatto, e d'une maniera interessante e opportuna, j'ai envie di dire malheureusement, un endroit de travail e d'écriture estremamente interessanti, perché, in effetti, ci sono situazioni di drammaturgia estremamente puissante. Diciamo, purtroppo, in un certo senso, l'ambiente del lavoro è un ambiente in cui si creano delle situazioni drammaturgiche molto interessanti in questo momento, perché, che sia perché viene proposto un lavoro, che sia perché il lavoro non c'è più o il lavoro viene rifiutato, eccetera, sono moltissime le dinamiche che ci sono in questo ambito, in questo momento. Io volevo chiedere, fare una domanda proprio sulla forma dei tuoi film, ritornando proprio alla questione che dicevo prima del naturalismo, nel senso che mi sembra che i tuoi film abbiano come unico padre possibile il cinema francese, il cinema di Maurice Pialat, soprattutto nella forma di utilizzare questi long take, queste lunghe scene in cui gli attori si possono muovere, in cui la realtà viene incamerata e poi avere questi strappi di montaggio che costruiscono il senso. E volevo capire, appunto, come giri questi film, qual è l'idea di cinema che c'è dietro questo modo di girare. Anche come nei confronti della realtà, di quello che sta raccontando. Il cinema è sempre una rappresentazione del reale, nel momento in cui si sceglie di mettere la telecamera in un certo posto, se dipende da quella certa scena e si crea una rappresentazione del reale. E, effettivamente, voi evocare di Maurice Pialat che è qualcuno che, come al migliore di altri, ha contato. Il ha contato nella sua capacità a, e io mi mi piace molto, a rappresentare una forma di verità, e io mi piace di essere incontro per le momenti. E, ecco che, abbiamo citato Maurice Pialat che sicuramente cercava di cogliere gli istanti di verità della vita, e in effetti questo è quello che cerco anch'io di fare, di rincorrere questo istante. E per esempio, oltre a Maurice Pialà, per me un film di riferimento molto molto importante è L'albero di Zoccoli di Olmi, perché quando vedo questi istanti di verità, istanti di realtà che passano per tutto il film, mentre si racconta una storia, per me è veramente stupefacente. E in effetti, voglio resumirlo in una frase, qualcosa che ha a voir con quello che dite. Se vedete i film che ho fatto, il y a di Bleu di Ville fino a alcuni ore di printempo, finalmente ho messo la camera a alcuni temi che mi arrangano. Per riuscire, per dare un'idea dei film, da alcuni ore di printempo, non, da Bleu di Ville fino a alcuni ore di printempo, io mettevo la telecamera in un posto che sistemavo io. E invece, a partire dalla loi di Marché, come per Un Ville e poi per il film che ha finito adesso, che uscirà tra poco, cerca invece di mettere la scimipresa in un posto che non si fa lui, e quindi è da questo momento che io sento di essermi avvicinato in effetti ad un certo tipo di realismo. Allora, ovviamente, questa camera, che è in un posto che non mi arranga, è decidita, è pensata, ma è stata organizzata, anche in questo film di Un Ville che si passa nel film del film, è stata pensata per dare il sentimento che i personaggi hanno accettato la mia presenza a loro cote. e comunque questa, la cinepresa, la telecamera, che io comunque organizzo e metto in una certa posizione, è fatta in modo da rappresentare il fatto che i personaggi hanno accettato in un certo senso la mia presenza accanto a loro. e il mio lavoro è di cercare di dare l'illusione con la ficzione, perché io credo che la ficzione ha dato l'illusione di come mi ha amablemente accogli all'interno di cose che esistono in realtà. e in un certo senso, attraverso la finizione cinematografica, cerco di dare la sensazione che i personaggi mi abbiano amabilmente accolto nel loro ambito, nel loro ambiente. e in effetti questo secondo modo di girare è in realtà molto più complicato che mettere la cinepresa, la telecamera, in un posto che convenga effettivamente la telecamera, che sia fatta opposta per girare. Allora, come non c'è davantage senza inconvenience, c'è delle cose che il dispositivo mi autorizza a filmare e c'è delle cose che il dispositivo mi empêche di filmare. e siccome ci sono vantaggi e svantaggi in entrambe le cose, questa modalità mi permette di filmare certe cose, ma non mi permette di filmarne altre, viceversa. e, per esempio, come vedete, la loi del marchio, il dispositivo mi permette di andare all'interno del personaggio, in tutto ciò che ha a fare con il suo rapporto sociale, ma mi permette un po' di essere con lui, ma, per esempio, mi empêche di, in questo dispositivo, per far croire a questo real, mi empêche completamente di andare, per esempio, in la chamba a cucchiai. e questo tipo, questo modo di girare ha, per esempio, se voi vedete, quando vedrete la legge del mercato, vedete che io, per esempio, sono, per dare a questo senso di realtà, io sono sempre al fianco del personaggio, del mio personaggio, però, allo stesso tempo, non posso entrare nella sua camera da letto. Quindi, per esempio, io avrei potuto, tranquillamente, scrivere delle belle scene girate nella camera da letto, magari recitate benissimo, però so che quando, che se li avessi inserito nel racconto, il film sarebbe crollato, non ci sarebbero stati. Ma io posso anche fare un film che all'interno della chamba a cucchiai. Però, dall'altra parte, posso anche fare un film soltanto dentro la camera da letto. So che, non avendo visto i film, è difficile, ma se avete qualche curiosità, qualsiasi cosa da chiedere, fatevi avanti. Caterina, c'è ancora spazio per una domanda, credo, giusto? Sì, credo che sì. No, vai tu, la faccio io. No, la faccio io. No, va bene. Facciamo insieme. No, il... Stiamo, ecco sopra. Una cosa che hai appena detto mi ha fatto venire in mente, si rallaccia a un altro discorso che avevo in mente, sul rapporto appunto con lo spazio, con gli attori, con la scena. E anche una cosa che hai detto prima, quando parlavi di familiarità, no? Di famiglia, in qualche modo. Giravi film con parenti, madre, padre, figli. E volevo chiederti, il fatto di ricorrere spesso agli stessi attori è anche un po' questa volontà di creare una familiarità proprio sia con la tua troupe che anche con quello che racconti nei tuoi film. Vincent Landon è interprete di tre film di Stéphane, ma c'è la sua sceneggiatrice, collaboratrice, Florence Vignon che è attrice in alcuni film, e poi vedrete, se vedete tutti i film, vedete tante facce che tornano, in qualche modo anche invecchiano col tempo. E quindi volevo capire questo, e anche se il suo cinema, che è un cinema di personaggi, ha evidentemente bisogno di attori che aiutino, detta così sembra un'ovvietà, ma aiutino lo spettatore veramente a entrare nel film. Lo prendono per mano e siano davvero la chiave di interpretazione per il film. In realtà come attori, l'unico attore che ha fatto più film con me è Vincent Landon. E in realtà, prima di incontrare lui, avevo proprio la sensazione di non poter fare assolutamente più di un film con lo stesso attore. Allora, il y a quelques attori in dei più piccoli, in dei più piccoli, ci sono degli attori che hanno fatto più film con lui. Ma non più che due o tre, in realtà. Ma solo due o tre. Dei episodi. Ah, sì, sì, effettivamente. In realtà, in realtà, ci sono tre attori che hanno fatto due film con me, e poi Vincent che abbiamo fatto quattro. Sì, comunque sono due o tre attori che hanno fatto più film con lui e Vincent Landon che ne ha fatti qua. Un giorno che ho incontrato Vincent Landon ma io ho incontrato Stéphane Brisé in un attore. C'è me, ma io in un attore. Ah, ok. Un giorno che ho incontrato Vincent Landon mi sono reso conto che era me, ma in versione attore. E come ho detto che non è solo per me, ma io non sono attore, è vero che è molto pratico fare film con Vincent Landon. E quindi mi sono reso conto che per me che non sono attore poteva essere un'ottima, molto comodo fare dei film con lui. E come il accetta di non farsi pagare troppo, e poi siccome accetta di non farsi pagare troppo, perfetto. E c'è con lui che ho scoperto che ho scoperto che potrei fare delle cose molto varie con il stesso corpo, il stesso visaggio e perciò andare su dei fatti molto diversi e veramente andare in delle cose molto varie. In effetti è stato proprio quello che mi sono reso conto che con lo stesso tipo di attore, con lo stesso tipo di volto, con lo stesso tipo di fisicità e di recitazione, potevo fare delle cose anche molto diverse tra di loro. Quindi in effetti la mia famiglia di attori non è ancora molto grande perché si risulta globalmente a Vincent Landon. E quindi per adesso la mia famiglia di attori si ferma a Vincent Landon quindi non è grandissima. Quindi siamo un gruppo che dura, è un gruppo che dura dopo 8-9 anni. Insomma siamo una coppia che dura da 8-9 anni e non c'è male. Questo qui per me è una performance straordinaria. E per me non è niente male. Non mi sento più esattamente a vostra questione. E la questione... mi sembra giusto un po' strana perché in effetti quale film non è portato avanti da un grosso attore da un grosso personaggio? Même Bambi il personaggio è forte. Anche in Bambi è un personaggio molto forte. E diciamo che io non parto mai da un proposito da un'idea politica per esempio parto da un'idea che però molto velocemente viene incarnata da un personaggio allora a quel punto la costruisco attorno a quel personaggio. ma come avevo poche immaginazione questa persona sarà assez proche di me. E siccome ho molta poca immaginazione questa persona spesso è molto vicina a me. Ma quando non avete molto immaginazione bisogna essere di avere un buon senso dell'observazione. E però se non siamo molto immaginazione bisogna avere un ottimo senso di osservazione. Per riuscire a fare un film di almeno un'ora e mezza. Sì, volevo sapere per chiudere del film che è un po' sportizione quindi volevo qualche coordinata in più su questo film purtroppo potremmo vedere però visto che sei qua andiamo a dire ci qualcosa in più. C'è un film avec Vincent Landon E un film con Vincent Landon E e e per la deuxième fois Vincent Landon face a des acteurs chi joue avec des acteurs non professionnels e per la seconda volta Vincent Landon recite insieme ad attori non professionisti che peraltro c'erano attori non professionisti anche in una vita e e e questo è qualcosa di importante nel mio lavoro è che depuis la loi del marché mi piace la confrontazione tra un attore ultra esperimentato e un ensemble d'attori non professionnelli la rencontra è extrêmement interessante per la rappresentazione del real e questo è un discorso tornando leggermente al discorso degli attori questa è una cosa che per me è molto importante mi piace molto il confronto fra un attore di grande livello e degli attori non professionisti cosa che secondo me per la rappresentazione della realtà è un bellissimo contrasto e c'è l'histoire di un'usine di più di mille employi che eserce nella sottratanza automobile e la storia del film si svolge in questa azienda che si occupa di parvi meccaniche per automobili e cosa importante è un'usine che rapporte pas mal d'argent ed è un'azienda che fa molti soldi effettivamente con un ottimo fatturato e malgrè questa situazione pourtant florissante una decision è prise in Allemagne par il PDG del gruppo internazionale che possiede questa usina la decision è prise di fermer questa usina malgrè la promessa dell'entreprise di proteger gli emploi durante un certain numero d'anni promessa che non tienne e la nonostante l'azienda funzioni bene vada bene viene presa la decision dall'alto dalla Germania di chiudere l'azienda nonostante la promessa fatta e viene appunto vengono meno la promessa di mantenere i posti di lavoro e le salarié tous ensemble il mille cent salarié emmené par le leader sindical che è Vincent Lindon dì non rispetto pas votre parole e il decido de blocco l'usine la produzione le stock per tentare di creare un espace di dialogo e tentare di guardare loro emmené e tutti gli operai cappeggiati da questo leader sindicale da questo sindicalista che è Vincent Lindon bloccano la produzione e bloccano l'azienda la fabbrica per cercare di creare un dialogo e dicendo no non potete fare così perché non mantenete le vostre promesse e il film si chiama In Guerra che racconta effettivamente la guerra che vanno mener i salarii al patron dell'entreprise ma che signifia la guerra che mene i patron de ces grands group aux ouvriers che hanno participato a loro richesse e chiaramente questo titolo si riferisce alla guerra che fanno gli operai e i impiegati i lavoratori contro l'azienda ma anche quella dell'azienda contro i lavoratori che hanno partecipato al suo arricchimento alla sua richiesta grazie mille io devo ringraziare Stefan Brise voglio ricordare al pubblico le proiezioni di stasera alle 22.30 ci sarà la proiezione del film Je ne suis pas la puretre et me alla presenza del regista e anche domani pomeriggio alle 14.30 ci sarà il film Quelques heures dopo un temps non lo so parlare molto 15.30 è Quelques heures dopo un temps e ce soir vi ringrazio con un applauso a Stefan Brise Grazie mille Grazie mille